Boris Primozic al Wine Day 2014, che novità avete portato a questa festa organizzata ogni due anni da Balan? Allora quest'anno abbiamo portato al Wine Day, la festa di Balan, abbiamo portato la ribolla di Oslavia, nata 2009, in anteprima per tutti quanti. Con Marco Primozic invece approfondiamo il discorso sulla ribolla di Oslavia e quindi com'è fatta questo 2009 appena uscito? La ribolla 2009 rappresenta un po' un cammino, un percorso, nel senso che è un pensiero nato a Oslavia ormai da diversi anni, che coinvolge tutti i produttori, che è diventato un tavolo di lavoro, di confronto, di concertazione, ma anche di scrittura, di idee, di quello che poteva essere un intuito, che era la tradizione dei nostri nonni e che rappresentava il modo di farla ribolla gialla una volta. Un modo ripreso probabilmente da stanco radico, forse senza probabilmente per primo a Oslavia, che oggi vede invece in tutto il paese condividere questo modo di dire che la ribolla di Oslavia è una ribolla che vive con la buccia, che quindi nasce da fermentazione spontanea, questo significa senza la solforosa, senza l'uso di lieviti selezionati, senza, diciamo, in qualche modo l'intervento dell'uomo, dalle più belle uve di ribolla di Oslavia, messe a fermentare, nel nostro caso, in tino aperto, e per un periodo che è definito assieme in circa un mese, in questo caso in quattro settimane. Da lì in poi deve ovviamente tutta questa carica, questa energia che prende quest'uva e questo vino dalla buccia di questa meravigliosa uva, avere il suo tempo di maturazione, quindi non può essere altrimenti che è un vino che abbia qualche annetto in più, e in questo caso la 2009. Il Wine Day è anche un'occasione di incontro tra persone che si occupano del mondo del vino in maniera professionale. Al tavolo, Primozic, che sensazioni hai raccolto oggi, beh, sulla ribolla, ma anche sui vostri vini in generale? Ma, l'atmosfera oggi era bella, c'era tanto interesse intorno ai vini, in modo particolare intorno alla ribolla gialla, in modo particolare proprio intorno alla ribolla di Oslavia, visto che era presentata in anteprima. Le persone che hanno partecipato erano molto interessate a tutte le tipologie presentate, anche alle annate nuove 2013 di alcune varietà che abbiamo presentato in occasione, e anche i visitatori erano molto preparati, attenti a quello che veniva presentato. Gli autoctoni in questi ultimi anni stanno tenendo un successo crescente. Primozic ha in tasca un asso che si chiama ribolla. In che versioni lo svilupperete, lo state sviluppando ultimamente? Beh, diciamo che in questo siamo felici di aver creato sicuramente in Italia un fenomeno che prima delle energie poste, proprio a livello di divulgazione, di conoscenza di questo vitigno, erano effettivamente un qualcosa di locale. Oggi la ribolla gialla la si trova da Palermo-Bolzano in tutti i più bei wine bar, quindi in qualche modo siamo stati premiati da tanto sforzo, ne ha beneficiato tutto il territorio. L'autoctono in qualche modo è un termine improprio, mi piace più il concetto del regionale. Questa cosa della ricerca della varietà del territorio la vediamo dalla cucina ai vini. Quindi noi moltissimo dobbiamo alla ristorazione di qualità, sempre più regionalizzata, e a questo a cerchi concentrici, nel senso che quando uno va in Toscana, va in Sicilia, va in Abruzzo, va nelle Marche, vuole il cibo locale, vuole un cibo di qualità e vuole anche conoscere i vitigni autoctoni. A differenza però di questo regionalismo, se vogliamo, mi piace pensare, non può essere altrimenti, che ci siano dei vini in qualche modo che sono un po' più local, quindi un globale locale. E questo sicuramente la ribolla gialla è uno di questi, e sicuramente il Collio Bianco, pur non essendo definito giustamente un autoctono, ma è sicuramente un'espressione di un territorio autoctono, in qualche modo ne fa parte. Oggi a Luen Day abbiamo visto vini provenienti da diverse regioni d'Italia e anche da tantissime denominazioni importanti europee, è quindi un'iniziativa che anche contribuisce un po' alla conoscenza di diversi territori. Ma effettivamente spesso si parla di conoscenza, di promozione, di divulgazione, anche di formazione. Questo è un evento dedicato proprio dallo spirito della famiglia Balan verso la ristorazione, una ristorazione attenta, che gli piace il confronto, gli piace conoscere cose nuove, quindi va dato assolutamente merito alla ricetta, ma anche alle energie che in questo caso la Balan mette nell'organizzare ogni due anni questo evento, che è in qualche modo un confronto bellissimo, immediato, se vogliamo anche in un contesto meraviglioso e rilassato, diverso da qualsiasi fiera o diverso da qualsiasi manifestazione, dove permette effettivamente di parlare con le persone e quindi va dato merito a chi tanta energia mette nel far conoscere i produttori, far conoscere i vini dei produttori, far incontrare chi poi tutti i giorni stappa le nostre bottiglie.